Wow, c'è un pacchetto da 100.000 ragazzi, noi ce l'andiamo a aprire, che dite, ce l'apriamo il pacchetto da 100.000 addirittura Uno, ce n'è uno per 24 ragazzi, ci proviamo Giocherigno, apre il suo pacchetto da 100.000 crediti Attenzione, dove si trova Suarez che mi sento male Oh Uno verde Gibson, ma ce l'ho Gibson, non mi fa trovare quello verde Amsic, Mandzukic Non c'è, non c'è quello if La lana, Biabiani e Gibson Volete farvi la squadra dei vostri sogni e non avete crediti? Golda.com per voi e con il codice Joker avrete un piccolo sconticino Ben a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker Siamo ritornati sulla Road to Division 1 ragazzi Allora, come vedete, sono sempre con la squadra tedesca ragazzi Con la squadra della... Con... Con la squadra, praticamente, in quasi tutto il Bayern Monaco ragazzi Allora, notate qualcosa di strano? Sì, c'è Leno in porta ragazzi apposta di Noyer che se non mi para le palle Me l'avete consigliato così tanti ragazzi Ma così tanti me l'avete consigliato sto portiere Che se non me para, quello che dico io vengo a casa vostra, vi metto due dita nelle vostre frocette del naso E vi tiro fino qui a casa mia e vi picchio a sangue Poi ragazzi, come notate, dopo tanti commenti C'è lui, Robben, ha acquistato per 770.000 crediti a faccia del cazzo quanto mi è costato Però abbiamo messo Robben Poi qua c'è sempre il nostro Royce Che adesso lo lasciamo attaccato a sinistro, poi dopo cambierò Noyer e Ribber in porta è qualche argentone che non vale un cazzo Quindi ragazzi, noi siamo prontissimi ad andarci a fare la nostra prima partita della Road to Division 1 Mi raccomando, spolliciate tantissimo per questo video Solamente perché ho comprato Robben Speriamo che non ha una squadra molto forte Ma 8500, quindi ce l'ha molto forte ragazzi Con Menez, Lavandino Lewandowski Anche lui Royce, Abume Young, cazzarola Abume Young ragazzi Goat Slam Eh eh, minchia, questo c'ha una grandissima squadra Non è che ce l'ha forte, ce l'ha veramente bella Perché poi anche a me mi avete consigliato di prendermi Abume Young Da metterlo tipo COC O attaccante e mettere Müller COC Ragazzi, vediamo un attimo in base ai vostri commenti che mi scrivete qua sotto in questo video Ragazzi, siamo pronti Cerchiamo di vincere almeno 3 punti oggi Che ci portiamo a 10 punti Perché dobbiamo cercare almeno l'importante di portarci alla salvezza Intanto subito con Lavandino Lewandowski Lavandino Lewandowski proviamo ad avvantaggiarci Invece niente, la tocchiamo per gran culo Oh Müller, ho la lasciata Müller Mamma mia Oh Müller La recupera subito Müller La mette al centro Va subito 1-0 ragazzi Müller Müller Porco schifo Vai così Vai così ragazzi La recupera Sbaglia il nostro avversario E l'anzacchiamo subito Come mi hanno culato bello il palo Mamma mia che culo Dai dai, lunga, lunga Svainstaker Lunga Svainstaker Lunga Svainstaker Ma vaffanculo va Due lisci clamorosi dei difensori Due lisci clamorosi Qua mi hanno culato regà Bello leno Eh vabbè Eh la palla rimbalza a lui Dai, mamma mia però Vai Müller Oh Ma vaffanculo Eh vabbè Eh vaffanculo va Vaffanculo Come distruggono le partite però Come distruggono le partite sto gioco di merda Come demoralizzare un cazzo di giocatore che gioca a FIFA Porco giuda ragazzi Tutti i rimpati a loro Come mi ruote il culo perde così Come mi ruote il culo Ma penso che a qualsiasi Tipo Ma anche voi a casa ragazzi Cioè penso che Anche a ogni singola persona di voi Che mi sta vedendo questo video Gli Gli ruote il culo come me Guarda ragazzi Perché non è possibile Che questo gioco deve fare così Non è possibile Cioè risolvessero qualcosa Prima della fine Perché io Prima che finisce FIFA 15 Penso che lo spacca a metà Andiamo a vedere questa seconda partita ragazzi Vediamo un po' Eh 85-100 Chi Eh Suarez Neymar E Robben ragazzi Ottimo così direi Dai la prima l'abbiamo pareggiata ragazzi Ci rimangono veramente Pochissime partite Cioè Ne devo vincere due Per essere promosso ragazzi Che se no Vengo retrocesso E vi giuro che Se me retrocedo Mamma mia Spacco il gioco Vai Calcio di punizione subito Royce Ci prova Royce Ci prova Royce Mortacci Lua C'ha messo il giocatore Se non era gol A giro ragazzi Mamma mia Mamma mia Comincia subito Aggressivo a mille Proprio Joker Eh Ha fatto il pallonetto Ma in guleto Ma con due Infermabile Infermabile ragazzi Infermabile La difesa Non so cosa sta facendo La difesa sta Dormendo E raccoglie Le margherite a primavera Non so per quale motivo Ci devono fare Con le margherite La mia difesa Si vedono passare Robben così Loro se lo guardano Ma prego signore Tiri una fucilata I segni Non c'è problema Dai a lavandino Dai a lavandino Dall'arcentro Per Mario Goz E segnalo uno pari Ragazzi Si riporta In Parigi Il giocherigno Vai così Grande Levandosca E grande Mario Bravo Mario Vai così Per Müller Per Müller Per Müller Sì ciao Niente ragazzi Difensori assurdi Che nervoso Perché fanno così Difensori Perché fanno così Ci hanno la palla E se la fanno togliere Come se niente fossi Tocco per Levandoschi E baffanculo Traversa Baffanculo Traversa Un'azione Va bene Va bene Basta Raga Basta Non è Non è aria Oggi Non è aria Grazie E-Sport Lei è veramente Gentilissima Veramente gentilissima Grazie Grazie mille Io prendo Traverse Niente Non è proprio giornata Oggi ragazzi Non è giornata Un pareggio E una sconfitta Che devo fare Non ci posso fare nulla Questi fanno Un'azione Un'azione Gli filtra tutto Io sto lì E non riesco a fare un cazzo Vabbè Non fa niente Dai Non fa niente Niente Anche è vero C'è da dire Che sì Il mio avversario Era bravo Quello che ve pare Però Ragazzi Purtroppo Quando ci si mette La merda addosso Non ci posso fare nulla Non ci posso fare un cazzo Poi questo è bravo Comunque C'è Sa fare molte skill E io non so fare un cazzo Però i miei difensori Sono rincoglioniti Ragazzi I miei difensori Sono rincoglioniti Grazie E-Sport Veramente Fai Veramente Un capolavoro Questo gioco E io stronzo Che ancora ci gioco Il problema è quello È colpa mia ragazzi Che io ci gioco ancora Vai Bravo gioco Bravo gioco Continua a giocare a sto gioco Che è una merda I difensori deficienti Che vanno ad accogliere margherite Dai Fischia 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 Sta partita di merda Vai Ci manca pure che segno Guarda Ci manca che segno così Eh va bene Va bene I-Sport Quante te ne dirò Su FIFA 16 Qua appena esce Una vagonata Di cose Comunque ragazzi Che dire Io ci sto provando In tutti i modi Ma qua veramente La situazione È molto difficile Io vi invito a lasciare Un pollice in su Di commentare Condividere sto video Al prossimo appuntamento Con il vostro gioco ragazzi Oggi non è giornata Eh Non è giornata Bella Ciao